È un giorno speciale per me, è un'avventura nuova per me, venire qua e fare il primo allenamento qua. Così ho visto tutti i giocatori, il mister ha parlato un attimo con lui, il presidente, così ho trovato bene. Sono molto felice di stare qua, ma penso che è una squadra che ha un oggettivo. Io sono venuto qua perché penso che voglio la stessa cosa e questo è portare la squadra a Serie A. Non sono mesi facili, sono le ultime tre o quattro mesi del campionato, ma duri, lo sappiamo tutti. Penso, così è la Serie B e siamo qua per vincere le partite, il più possibile, e trovare l'obgettivo nostro, andare alla Serie A. Mi sento bene, mi sento bene, lo sappiamo noi che non ho giocato tutte le partite fino ad adesso, ma questa è la cosa che voglio cambiare. Voglio, c'è un fame da giocare, farmi vedere, fare gol, sentire il piacere di stare dentro il campo con la squadra. Questo è il sentimento, che sono venuto qua per farmi vedere e giocare, fare lo più possibile per la squadra. Un saluto a tutti i tifosi, Rosso e Blu, dai, forza squali!